Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere alcuni dei consigli di Jim Quick su come usare al massimo il nostro cervello. Quick ha una storia molto particolare, lui ebbe un incidente da piccolo che gli causò molti problemi al cervello creandogli grandi difficoltà nel processo di apprendimento. Questo è un problema che gli ha fatto vivere un'infanzia molto difficile, d'altra parte lo ha portato a voler risolvere il suo problema a tutti i costi e a trovare modi per migliorare la sua qualità di vita. Oggi è una delle persone più accreditate quando si tratta di migliorare il potenziale del cervello, non solo per quanto riguarda la memoria ma anche la velocità di lettura, le abitudini eccetera. Sono molti personaggi che chiedono la sua consulenza, specialmente attori come Will Smith, Jim Carrey eccetera. In questo video andremo a vedere brevemente alcuni di questi consigli. Fatevi domande, facendovi domande del tipo come posso avere successo in questa cosa comincerete a concentrarvi su quell'argomento e a trovare le risposte. Quando non lo facciamo invece non notiamo le risposte che potrebbero sempre essere lì. Quando diamo al cervello una direzione attraverso le domande, lui cercherà il modo per rispondere a quelle domande evidenziando le soluzioni nella nostra realtà. La concentrazione determina il modo in cui vi sentite e il vostro comportamento. Quick fa gli esempi degli algoritmi di Facebook e Instagram. Le cose che condividete di più, dove mettete spesso mi piace o commentate, sono il tipo di post che vedete di più in bacheca. Anche il cervello funziona in base a questo algoritmo. Vedrete nella realtà le cose a cui pensate di più durante la giornata. Rimanere motivati. Secondo Quick la cosa principale qui non è quella di motivarsi ma di rimanere motivati. Bisogna mantenere il cervello continuamente in allenamento attraverso lettura, audiolibri eccetera e per fare questo bisogna avere voglia di studiare. Il cervello è come qualsiasi altro muscolo del corpo, ha bisogno di continui allenamenti e dobbiamo essere disposti a farli. Per questo è necessario rimanere motivati. Per rimanere motivati dobbiamo chiederci il perché delle cose che facciamo. Perché è importante per noi avere successo, avere più soldi eccetera. La risposta a questa domanda determina anche la capacità di rimanere motivati. Ci sono persone che rimangono motivati per via della loro famiglia, vogliono garantire ai propri familiari una vita migliore, altri lo fanno perché hanno bisogno di successo, della sensazione di essere dei vincenti. Trovate il vostro perché e riuscirete a rimanere facilmente motivati. La vita è la B e la C tra la B e la D. Con C si intende scelta, choice. La B rappresenta la nascita, birth, e la D rappresenta la morte, death. Quindi la vita è la scelta tra nascita e morte. Noi siamo il prodotto delle scelte che facciamo, quindi dobbiamo essere disposti a fare scelte in continuazione. Quante volte diciamo a noi stessi come sarebbe andata se avessi detto di sì a questa opportunità o no a quest'altra. Non dobbiamo pensare solo alle scelte pesanti, quelle che potrebbero farvi rischiare tutto ciò che avete. Si tratta di fare anche scelte semplici come ad esempio cosa posso fare oggi per migliorare la mia salute, le mie relazioni, le mie capacità. Queste sono scelte facili da fare ma che potrebbero avere grandi impatti sul vostro futuro. Comincia con il fine in mente. Anche questo concetto riguarda la motivazione. Se vedete nella vostra mente la realizzazione del vostro obiettivo, come vi sentireste se ci riusciste, la gioia che provereste e lo fate prima di cominciare, dopo sarete estremamente motivati a fare i sacrifici che dovreste fare. Se la promessa del futuro è chiara, i sacrifici oggi diventano facili da fare. Quando hai quindi il fine in mente, il cervello è più motivato a rendere al massimo. Quando dite sì a qualcosa o a qualcuno fate attenzione a non dire di no a voi stessi. Da questo dipende la capacità di sapersi prendere cura di se stessi. Secondo Quick, se dobbiamo fare attenzione a non pensare agli altri quando diciamo di sì o no, quindi non dobbiamo pensare agli altri ma solo a noi stessi. E spesso pensiamo solo a non deludere gli altri e finiamo per deludere noi stessi. Se non credete in qualcosa non lo fate. Chiedetevi prima se lo volete oppure no. Se la risposta è no, allora cercate di non pensare agli altri in quel momento. Se non lo facciamo stiamo mettendo delle barriere al nostro tempo, al nostro cuore e stiamo contribuendo a peggiorare il nostro stato d'animo. In queste condizioni il cervello non rende al meglio. Leggete un libro a settimana, la lettura rappresenta per il cervello quello che l'allenamento rappresenta per il corpo. Inoltre immaginate per un attimo cosa può comportare per le vostre capacità, il vostro lavoro, il vostro reddito, un libro a settimana. Significa all'incirca 50 libri in un anno. In dieci anni sono 500 libri. In questo caso si consiglia di non leggere romanzi o gialli ma libri che vi possano insegnare a migliorare la vostra qualità di vita, le vostre relazioni, la vostra situazione finanziaria eccetera. Praticamente bisognerebbe leggere i libri che vi riassumo ogni settimana in questo canale. Quig dice che leggere un libro o ascoltare un audiolibro non è la stessa cosa. Noi ascoltiamo in modo passivo mentre quando leggiamo siamo concentrati. Per riuscire a leggere ogni giorno dobbiamo dividere il processo in piccole componenti. Ad esempio provare a leggere dieci pagine, poi appena leggiamo dieci pagine. Diventa più facile continuare a leggere altre dieci. Se cominciamo con l'obiettivo di leggere cento pagine non saremmo motivati a farlo. Un modo per leggere velocemente è la subvocalizzazione. Da piccoli impariamo a leggere ad alta voce. Questo ce lo portiamo dietro anche da grandi. Leggiamo sempre ascoltando una voce in testa oppure leggendo ad alta voce. la subvocalizzazione ti consente di raddoppiare o triplicare la velocità di lettura cercando di eliminare questa voce. Come? Usando una penna e scorrere tra le righe seguendo con gli occhi la penna. È più facile per gli occhi seguire un oggetto piuttosto che leggere senza aiuti. Aumentando la velocità del movimento della penna si aumenta anche la velocità di lettura e si elimina la voce in testa. Inoltre si riesce a fotografare invece di leggere. Quando vediamo una parola non leggiamo lettera per lettera. È una parola che abbiamo visto centinaia di volte e la identifichiamo fotografandola, non leggendola. È così che il cervello legge. Se provate a concentrarvi sulla matita e provate ad eliminare consapevolmente la voce in testa riuscirete a migliorare anche la velocità di lettura. La comprensione migliora con la velocità perché anche quando guidiamo siamo più concentrati in autostrada a 120 all'ora piuttosto che in città quando andiamo a 30 all'ora. Questi sono consigli che funzionano. Io li uso da tempo e per questo riesco veramente a leggere in modo molto veloce e a riassumere sempre più libri in una settimana. Ve lo consiglio. Ci sono anche molti libri interessanti a riguardo di Tony Buzan ad esempio. Lui è molto famoso per quanto riguarda gli esercizi per la memoria e per la velocità di lettura. Non dite mai mi dimentico le cose. Il cervello comincia a credere a queste frasi e comincia a perdere lucidità. Dobbiamo dire il contrario. Io mi ricordo tutto e dobbiamo allenare il cervello attraverso determinati esercizi come ad esempio usando l'immaginazione. Se ad esempio dovete comprare le uova e la farina. Per ricordarvi la lista provate ad immaginare che qualcuno vi tiri la farina e le uova in faccia. Il cervello tende a ricordarsi meglio le informazioni che includono immagini forti. Questi erano i consigli di Jim Quick per migliorare la capacità del nostro cervello. Sono consigli molto pratici e facili da seguire. I risultati cominceranno a vedersi in pochissimo tempo. Vi consiglio di provarci perché provare non costa nulla. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!